Hola, soy Manuel Barriuso, sono un docente del gruppo di lingua spagnola dell'Università dell'Insubria e niente, volevo solo invitarvi a venire da noi per studiare una delle lingue che si parla di più nel mondo, che si parla non solo in Europa ma che si parla in tutto un continente. Vi faccio l'invito di venire da noi non solo per studiare la lingua, bensì per studiare la storia, la cultura, le tradizioni di un continente e di un paese europeo importantissimo nel mondo. Così importante è tutta la nostra storia e la lingua e in questo percorso che vi faremo fare vi daremo gli strumenti per diventare mediatori interlinguistici e interculturali, per diventare la unione tra due mondi, il mondo della lingua italiana e il mondo della lingua spagnola. Vi daremo gli strumenti per conoscere la letteratura, la traduzione, per conoscere tante cose importanti che deve conoscere un mediatore interlinguistico e interculturale. Vi accompagneremo, come vi dicevo, per questa strada, una strada lunga fatta di tre anni se volete fare solo la trienale o di cinque se volete includere la magistrale, una strada per dove cammineremo insieme. Come diceva, voglio finire con le parole di un poeta famosissimo spagnolo che diceva, camminante, no è cammino, se hace cammino all'andare. E questo cammino che in spagnolo si dice cammino ma in italiano è strada, questa strada la percorreremo insieme, voi che state arrivando e noi che siamo qua ad aspettarvi.